Fala galera, è ufficiale, è stato diramato il messaggio di tutti i tifosi rossoneri alla richiesta di Tommaso Pobega da parte dell'Atalanta per Josef Ilicic. Ve lo mostro subito. Avete capito? Ve lo rimostro per sicurezza. Ragazzi, basta beneficenza, basta beneficenza, veramente, soprattutto nei confronti dell'Atalanta, a cui abbiamo dato già 28 milioni più pessina per quel calesse di conti. Io penso che questi sono gli affari di Mirabelli, adesso c'è Maldini, anche lui ha fatto beneficenza perché ha dato via zero Donna Rum, ha dato via zero Cianoglu, quindi la beneficenza ormai l'abbiamo fatta, basta. Non possiamo privarci anche di Pobega, che secondo me è un patrimonio del Milan, è il centrocampista italiano più giovane ad aver raggiunto quota 6 gol in campionato, soprattutto per Ilicic, che secondo me sì, è buono, però quest'anno è stato molto discontinuo, il top l'ha mostrato proprio contro il Milan. Lui quando vede Milan, quando vede rosso-nero, si esalta sempre, adesso non so se ci gioca, si esalta lo stesso, però mi sembra un po' rischioso, anche lui ha fatto 6 gol, ma da trequartista, non da centrocampista, ha meno compiti difensivi. Ha fatto più assist, ne ha fatti 10 contro i tre di Pobega, però ripeto, un trequartista ha più responsabilità sul fronte offensivo. Oltretutto c'è un'età da considerare, Ilicic è dell'88, Pobega è del 99, uno ha 22 anni, l'altro ne ha 33, quindi veramente, vista l'emergenza che abbiamo nella mediana, con al momento solo due giocatori, che sì e Benasar, che saranno entrambi occupati in Coppa d'Africa a gennaio, mi sembra veramente assurdo dare via Pobega per prendersi Ilicic, ma non penso che Maldini faccia questa assurdità. Detto questo, vi ricordavate di Andre Silva? Vi ricordavate dell'altro affare da 38 milioni di Mirabelli, che poi abbiamo ceduto a Francoforte per prenderci Ilicic? Ecco, quest'anno ha fatto la bellezza di 29 gol in 34 partite, ha una valutazione di 45 milioni e verrà ceduto per 23 milioni all'Ipsia, cioè 23 milioni con il mercato di oggi, con le quotazioni di oggi 23 milioni all'Ipsia ragazzi. Perché? Mistero della fede ragazzi, mistero della fede, ma non vi nego che mi piacerebbe vederlo al Milan nuovamente, una punta del genere per 23 milioni. Ovvio che lui non ci verrà mai, visto che ha trovato la sua dimensione in Germania, è un giocatore maturato, è anche una squadra diversa a quella che andrebbe a trovare al Milan, sicuramente è una squadra migliore per dimostrare i suoi doti, però è solo fantacalcio, è solo un'idea nella mia testa, visto che lo prendono per 23 milioni, una punta del genere, secondo me è poco. Quando ti sparano 60 milioni per un Vlaovic, che è fortissimo e che ha solo un anno di contratto. Detto questo ragazzi, è quasi ufficiale anche il ritorno di Diaz, di Brahim Diaz, è stato rinnovato per un anno il prestito, questa volta ci metteranno un diritto di riscatto, un'opzione di riscatto da parte del Milan, 3 milioni di prestito oneroso più 19 di riscatto fanno un totale di 22, peccato il recompra da parte del Real Madrid, l'opzione di recompra che se lo possono riprendere per 27 milioni. Però ecco, l'operazione Diaz è sicuramente un'operazione degna di nota, sicuramente un'operazione positiva che volevano tutti i tifosi. Un po' amaro questo recompra, però ragazzi ci sta o così o niente. Finisco con Auge, il giocatore, il talento norvegese che Pioli sembra proprio non voler vedere nei suoi schemi, sembra destinato in prestito, o meglio, la società vorrebbe darlo in prestito. Però è venuta fuori un'offerta davvero grande, visto quanto è stato acquistato Auge, visto il suo valore di mercato, di 15 milioni da parte del Wolfsburg. La società ha fiducia su Auge, però questa offerta di 15 milioni ha fatto un po' vacillare anche questa fiducia. Si vorrebbe dare al Torino in prestito, però il Wolfsburg è entrato a gamba tesa su Auge con questi 15 milioni. Io lo terrei comunque, lo terrei e lo darei in prestito, visto che proprio Pioli non lo fa giocare, lo tiene sempre in panchina, a questo punto darlo in prestito a una società che lo valorizzi, non il Torino, che il Torino non gioca bene, ha delle difficoltà. Eventualmente, se proprio si vuole vendere, ho la speranza che poi si prenda a un giocatore giovane, un talento che possa entrare negli schemi di Pioli, ecco, un giovane di prospettiva, non un Ilicic. Detto questo, ragazzi, vi saluto, grazie a tutti, schiaffate come sempre un like, iscrivetevi se non l'avete fatto e soprattutto nei commenti fatemi sapere la vostra. Ciao!